Per quei 2-3 secondi di ritardo in partenza Figurati com'è dopo Eh io intanto magari devo customizzare l'unculo Allora, ho premuto invio, chissà che cazzo è partito Entriamo nel party di questi qui? Eh, però, slash LFM È l'unico che c'è Ok Ehi, c'è spazio per un genetic? Non mi posso muovere, porca zozza Questo è morto Non mi ho appena invitato A me no Chissà se c'è spazio, perché non ne ho idea 1, 2, 3, 4, 5 Boh, a posto Mi metto su party, così non leggo tutte le stronzate Vado su party Io dovrei riuscire a vederlo di qua Perchè qua avevo abilitato la chat del party Ma io ho qua ancora le impostazioni vecchie Quindi ho quello per la chat di Gilda Quello per la chat di party Whisper, il battle log e la regolar chat Che si riempie di clutter e cagate e varie Chissà quale sarà il mio ruolo Far picchiare la bottiglia e usare cart cannon? Non lo so Perchè come DPS non è che sono il massimo Oddio abbiamo altri ruoli Io il mio scopo, cioè il mio ruolo sarà cascare Magma Eruption a Beveroni No può darsi che invece dobbiamo Prendere i mostri Wanderer Capito la roba che c'è Eh, gli faccio Magma Eruption in testa E quello smette di Wanderare Facciamo che metto altre Altre 150 pallette dentro va Ah, intanto mi prendo la quest Aspetta Eh, entrando senza Pa 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 Anclar scaraba E poi C'è un altro che fa continuamente Quanti meccantici ci sanno? Forse non eri tu che cazzavi quella roba Cosa? C'è qualcuno in giro che fa la tua stessa skill In mezzo al party Open Perfection? No Cosa? Cioè? Il martellone E cosa lo può fare qualsiasi blacksmith? Warlock Ok andiamo Ok andiamo Vai 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 Stiamo andando? Sì Bene Research building Pronti Rup Inca perché nell'altro mica ti fa entrare Oddio l'allaganza è a vivere conda Come sono entrato e ho iniziato a laggare lecchi dei shit Oddio ma sono già andati in punta di casino Aspettateci E che cos'è? Maledetti schifo Oia queste emozioni non le avevo mai viste Che brutte Croc Sono i businka I businki Pardonnevo questo businka Top 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 Dov'è la mia bottiglia? Allora la mia bottiglia sta facendo un culo così a un antler scaraba E we want the scaraba Siamo divisi Aia mi sono incastrato Aspettate non mi sono baffato Aspettate che l'ho appena arroccato 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 Qua c'è gente che inizia a morire malissimo Vedo Arriva Boom Voila Oddio hanno ammazzato il mostro su cui stava facendo cannon e cannon non è partito Eh vabbè Vediamo questo businko Croc Aggiungiamo danno al danno Mamma mia To Oddio li bisciotti i businki Io faccio così Bonk E chi si avvicina si piglia gli schiaffoni Oddio col prete è tutta un'altra messa accantata sapevatelo E' un prete dopo tutto E' un prete dopo tutto E' il famoso Don Crocro E' questo Scaraba che non vuole morire Ma perché faccio segnere due Ne parli con questo Eh perché hanno una skill che riduce il danno di Scaraba No signor Scaraba venga da me Si ma c'è un problema ti ripeto la mia skill non può essere ridotta Il 1.800 se li pigliano sempre e comunque a precedere Non è che si stanno pigliando il nostro tank di qua Dov'è Non lo so C'è troppa merda a schermo non capisco più un cazzo Aspetta com'era No effect Fatto Con lo slash No Si non vedrò il precazzo ma non me ne frega un cazzo Non so se sono riuscito a farlo Non mi pare Oddio qua sta innamorì malissimo No prego parlatene con questo Bonk Sono anche dove tu sia Qui Frop Ho tirato card cannon nel mucchio Chi se se ho beccato Quello è fresh fish? Dammi dammi che me lo mangio subito Dov'è la bottiglia? Non la vedo mica Torta al limone era buonissimo Let's wait we regroup with party before killing big stacks So it counts for everyone Eh mi sembra giusto Dov'è questi si separano Ci siamo Bene Si infatti croc Bonk C'è uno scaraba che mi sta seguendo Prego signor scaraba Prenda questo Scaraba ce l'ha con me Eh pardonne con l'eruzione Non mi posso fare più il coso perché Guarda quanta merda Guarda quanta expo che è arrivata Fatemi risuscitare l'omunculo Fermi là Tanto aggiungo un po' di danno va Sta arrivando un mambatino Pronti che l'omunculo Mambatino chiama per il martellino E con un altro Tant'io mi riparo due secondi 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 Cosa che è... Ma non è con questo va Oddio c'è la bottiglia che si sta mobbando l'infinito Cerchiamo di stare vicino al gruppo Sennò perdiamo il grosso Ci sta provando Ma l'omunculo non ne molla Vabbè l'omunculo morirà Che cazzo non ne frega C'è uno che sta facendo carta Prego parlatone con il martellone va Bonk C'erano mostri anche qua Non me ne ero mica accorto Forse servivano più palle di cannone Di quelle che ho portato sai Lo stiamo andando Stiamo rubando i mostri a questa party Non capisco Ma quello è un altro party Non lo so io vedo che i nostri stanno castando Quindi mi butta in mezzo Vaffanculo che te devo dire Io vedo ancora troppo effetti Come era? Slash no effect Sì No effect Tutto attaccato? Sì L'unica cosa che vedi sono le cose del Come si c'è del bardo Ah ok si Dovrebbe essere a posto Tipo gli AOE effect del coso Non li vedi più poi Perché non è malaccio Perché non capisco più una pera Dove stanno nel nostro party? Allora il nostro party è questo qua Non lo so Oddio Mi sa che ci stiamo dividendo C'è un po' di gente che va a sinistra Sì un po' di gente che va Io sono andata a sinistra con loro Perché c'è il prete E qua c'è qualcuno che è morto Un po' malissimo Ecco Oh no no Signor Scaraba No no muoro muoro Lassi spare Morto Oh grazie Per salvare sto cazzo di coglione Sono andato in posibug Uh Raph runstone Dammi a babbo No qua Non ne abbiamo di problemi Il problema è che state Killando l'impossibile Noi non stiamo prendendo un cazzo Cosa killando l'impossibile? Ne stiamo menzando due o tre per volta Perché Noi neanche quello Perché il tank è qua dietro Non si sa fare bene cosa Oddio Faccio 15.000 Qualcuno mi deve aver baffato Il prete ci ha baffato l'impossibile Non te lo vorrei dire mai bro Sì sì No ma è anche piroplastic Aia Lo segno Piroplastica To Bonk 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 La plastica me la stanno rifacendo Allora schiaffoni Mi hanno rifatto leggermente le verchi Ma il resto del team Ci ha mollato qua Non vorrei dire Siamo in due Ma tu dove sei? Io sono vicino a te Ti vedo Io sono un attimino Una trappa Eh non è che riusciamo A raggrupparci Perché Eh Aspetta che fanno da loro Solo che lasciare il prete da solo Non mi sembra una bella idea Eh ma questi ci stanno Mobbando l'infinito Capi? Qua hanno mobbato l'infinito Sti figli di doppia troia Racchio mi sa che Le Le pallette non Non bastano Questi è dei nostri Si Croc Che questi adesso Finiscono le robe E noi siamo ancora qui A grattarci le pive Eh vabbè Non va bene Va male purtroppo Oh qua c'è un'altra parte Dunque Ho appena risurreccato l'omunculus E mi faccio fare di nuovo Piroplastic Il mio omunculo va in giro A fare danno Siamo di nuovo tutti sparpagliati Cazzo ci siamo di nuovo divisi Porca puttana Io vado su Vaffanculo Questi non sanno Stare in parte Manco a balla Cioè c'è il Il tank Seguite il tank Non è difficile È quello con tutti i mostri Addosso Millo Millo ganava un fischione Beh io ho tirato due Due robe Ok vaffanculo Cioè l'altro tank È qui in mezzo a un altro party Stiamo a bando Per un party Che non è il nostro Ma vabbè Qua succede Perché non si capisce Un cazzo di niente Quindi Non so neanche Dargli troppe colpe Il punto è che Io ero insieme a lui Perché ho detto Ah qua c'è il party Invece ho notato Che quel coglione Stavamo a bando Per il party sbagliato È come the wrong goal Piff The wrong party Comunque Il kart cannon Non è malaccio Solo che mi manca Un po' di equip Per Guarda la bottiglia Oh Se ne sono andati Questi struzzi Buongiorno Ma c'è il doram Che sta tankando L'impossibile Cazzo Vedi quel cazzo Di gattino Che c'è fatto Una mobata Infinita È il figlio legittimo Di Leo Picchia fortissimo Mamma mia Ma questo Ce lo portiamo dietro Chi? C'era un mostriciatolo Era un pet Quello È diventato Il nostro pet Mascot della squadra Mi metto giù Altre 500 palle di cannone Oddio qua c'è Il mobattone anale Prego Dove? Oddio Aspetti Era un attimo Caricavo le palle D'altro quest'altra parte Ha provato a ninjarci La mobata Ma gli è andata In buon culo Tipo Ok Intanto mi rifaccio Stiamo andando tutti insieme Con l'altro party Che porca merda Non si capisce niente In questo posto Maledizione Ma infatti c'è Metta del party qua Metta del party di là No Ok Perché continuano a seguire Quegli altri Non capisco per quale cazzo L'hanno avvelenato Vabbè signori Magari Ce li togliamo da culo I mostri No Magari Aia Mi stanno Arroccando Ma perché il nostro tank È qua dietro Chi sta Avevo due tank Che stanno tutti e due dietro Per qualche ragione No Abbiamo due tank Che stanno Uno da una parte Uno dall'altra E io sto diventando Ligeramente matto Benvenuto a nightclub Io non capisco più Che cazzo devo seguire Sai cos'è Hanno fatto il party swarm Questi non hanno organizzato niente Hanno detto vabbè Ognuno va Alla spera in dio Ognuno va dove vuole andare No E tutto va Dove vuole andare Non ho visto neanche Quanti busilli So E qua non capisco un cazzo Butto un magma Rob Ma anche io sto facendo così 90 di Di vit Che il veleno mi dura Due secondi E poi basta E io invece ne ho pochissima di vit Beh Io ne ho 90 Per le riduzioni Le cose E poi perché mi serve Non riesco a colpire il mostro Oh ecco Devevo che ho trovato uno Questo è il nostro Non capisco più Una sega Tanto card cannon Non me lo possono bloccare E siamo sempre in mezzo All'altro party Ma che cazzo Ma ce l'avrò ancora Sì Questo ce l'ho ancora Intanto Mi curo Mamma mia Questa cosa è bellissima Anche se sul livello 3 Non è maxata Aia Aia Forse ci muoro Io scappo No Non sto capendo un cazzo Sì è la follia Così non è che mi piaccia tantissimo Go air go air go up Ma dove Ir non vuol dire un cazzo Il tizio che dice Vai qua Io vedo che c'è gente che sta andando su Quindi vado su Ecco Vado su anche io Faffa cool Sai questo è il nostro tank Che è inseguito da mille Ok ha smobbato Beh bravissimo Hop Ti do una mano Grazie A crepare ci metto un po' a crepare Io sono abbastanza tostigheddo Con 20k di vita E invece crepo subito Perché purtroppo ho tipo 10.000 hp E no Ah io ne ho quasi 20.000 Oh cazzo Ma muoio davvero però Oh Morto Ah Non 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 Signora Longari Mi serve un res Aiuto Mi serve il nuovo bucio Oddio la bottiglia ha fatto il peggio disastro Mamma mia la bottiglia mi ha salvato Ma il pa Il Il prete Eeeh Sta arrivando adesso E' bellissimo comunque Il prete E ti sta ignorando Il tank che ci ha smobbato addosso Carca miseria Mentre mi faccio fare il nuovo piroclastic Poi mi faccio questo Poi mi casto questo A B me and let me Che cazzo Lure Ah vuole fare lui il Il baiting Va bene Mi sta anche bene Basta che lo faccio Allora sappiamo che cazzo dobbiamo seguire Esatto Tanto ci sono due persone che sono in giro Non riesco a fare vaporize Porca Ma siamo in share Non ho idea Ok si No perchè ieri a Gramps c'era un tizio Che aveva un Il capo party era un coso Si c'è un hunter No? Alla classe evoluta Cazzo non riesco a fare reload E sto gran figlio di Troia Praticamente ha creato il party E non l'ha messo in share Quindi noi gli urluravamo la roba Lui uccideva prima tutta l'exploy Finchè non ci siamo accorti della magagna Non vedo la bottiglia Eccola qua Ma ci siamo divisi Ma questo non è il nostro party Che io c'ho la refresh Ok Ma cazzo è il nostro party? Sei secondo le persone sbagliate Mentre stavo facendo il comando refresh Reload Sono andato Un attimino in confusione Io ti ho visto un attimo E ho detto Ma quella non è il nostro party Che cazzo sta facendo È perché non mi ricordavo Quello del comando Per refreshare l'omunculo Così lo posso No no Ha detto che lui non ne vuole sapere Di ritornare nella boccia La cosa che mi rompe un po' il culo È che C'è gente che va in giro qua Con il pet E il pet Non serve a un cazzo E ti confonde e basta Ogni tanto vado a passare Dulan Succubus Cioè non servono a nulla qui A parte creare fastidio No un resurrecto munculus Vabbè si Resurrecto munculus Vai Oh qualcuno qua c'è morto Fip Fammi il piroclastico amico Abbiamo perso il gatto Ok Abbiamo perso il gatto Se non gli metti il microchip Succedono le brutte cose Fammi il piroclastico Dai collare Quelli a inseguimento L'altro stanno vendendo a 20 euro adesso Quelli Che cosa? I bracciali e i collari Per gli animali E per i vecchi che hanno l'alzheimer Per i bambini Ah Che hanno il tracciante Beh è utile Questi si perdono Tu col cellulare li puoi Li puoi ritrovare Bottiglia Porco schifo Ma perché vanno a rompere il cazzo agli altri party Che quelli mobano e quelli li Ma infatti non capisco dov'è il nostro party E metà è in mezzo al party degli altri L'altra metà è qua su Beh io sto seguendo il prete Solo che capito Il prete magari di qua è l'urere da un'altra parte È un po' inconfusionaria questa cosa Infatti guarda quasi quasi era meglio farcelo da soli È che ci avremmo messo sei giorni e mezzo Moriamo malissimo Perché ho notato che comunque faccio tanto danno Ma in una sola cazzata non riesco a ucciderli Ma non c'è E reggerne per due mi rovinano Senza il prete Mi servono due cazzate Per fare i busi E gli antler Me ne servono 785 Perché Per fare i risi e i busi Oddio All'antler faccio 17k danni Quando non si fa la skill Chi è che sta morendo qua in mezzo Non è il nostro quello Come non io sono in mezzo al nostro party No i nostri sono tutti sani Mi tolgo la skill per accelerare Poi mi faccio questo Poi mi faccio Pyroclastic Metto questo Non è caso ci sia qualcosa di ancora vivo Ma anche io tiro sempre un kart cannon dentro Perché Io ci butto dentro Aspetta appena Mi livello ben bene il coso Chi è che sta allurando Perché vedo mostri in mezzo al party E non La cosa non mi riempie di gioia Carità cristiana No Beh io ho un magma L'ho avuto qua Non si sa mai Ahia C'è uno scarabà che mi sta rompendo il chiula Ok Sono riuscito a liberarmi Uh guarda questa mo' batona Qualcuno caccò sul nido del chiurlo Sì del tipo che mi è morto il Lomunculus E io lo richiamo Perché Lomunculo non ha i nostri problemi di tracking Capito Va e si butta sul nemico più vicino Ma non perde loyalty Lomunculus Quando muore No E poi anche se fosse Non mi serve più la loyalty Ok Perché comunque è già a livello S Quindi non deve fare Non deve fare altro Cioè io Il geneticist L'ho usato solo di sfuggita Tra l'altro ho una skill Che gli sacrifica la loyalty Per fargli fare un'esplosione Ah è il suicidio Fa il botto nucleare Sì L'attacco alla Valbar Sì Vedi la bottiglia che fa Alla Walkbar Sono una bottiglia Molotov E si fa saltare in aria C'è miseria Sei una brutta persona Tu sei una brutta persona Io ho detto al bar Sei tu che ti sei uscito Eh per bere la bottiglia Eh Questa bisogna di un aiutino Con lo scaraba Chi si piglia Si abbottiglia Bonk Però dateci una ma Ah Dove cazzo Ma perché sei da solo Vieni in mezzo al party Perché c'è un tizio qua Che ha bisogno d'aiuto Vabbè E fottitene Stai in mezzo al gruppo Fottitene Abbandoniamo il party Sì stiamo col grosso Peggio per chi rimane indietro Sto correndo a palla Non so neanche più dove la bottiglia Sto livellando a fischione Ah ieri c'è stato un momento In cui le rate erano a 35 Per qualche ragione Perché c'è Fa da 25 Poi 30 Poi 35 Oddio qualcuno ci è morto Non so se sia dei nostri Alcuno ci ha lasciato Adesso le rate sono a 25 Infatti Eh cerchiamo di stare vicino al Al coso Al lanter No lanter Che lanter killa Cazzo no Siamo mischiati all'altro party Boh Danito Uii Ecco io butto un magma in mezzo Perché non guasta mai Io invece lì c'ho like the shit Perché Quello non guasta mai Non vedo più la bottiglia Quindi mi sa che c'è crepata Io la richiamo Ok aspetta che accelero Aia Qualche mostro mi tocco E' questo E' crepa Abbiamo perso il grosso del party Quello che killa Un sacco di roba insieme Oddio che mobattone enorme La vedo la vedo Hop Ma questo non è dei nostri Si E' il doram che sta facendo La mobata del signore Accipigna che botta C'è la bottiglia che sta facendo Per tre Serverebbe una manina qui Ti preoccupare Adesso te li uccidono Adesso mi uccidono Fortuna che questa cosa non ha Cioè ho così tanta dex Che il repair è istantaneo Non devo castarlo To Eh caccare questo maledetto coso Tun 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 Forse dovrei togliere l'omunculo Perché da solo che è fastidio E allora toglilo Eh non riesco a vaporizzarlo Fallo morire e non lo far Infatti lo lascio la morì Solo che mi serviva Il buff che mi dà Che il buff che mi dà E' un buff anale Scusa mettilo passivo Così non atta E adesso non usa pote Perché Ah vabbè si Però mi devo teletrasportare Slash oai E devo fare Chiocciola Refresh Ok adesso dovrebbe aver Ricaricato anche la i Solo che così non mi difende più Oddio aveva i mostri appiccicati Ah Papapaparavarappa Mi sa che ci crevo segno Bonk Fatemelo resuscitare Questa cosa mi fa danno anale Abbiamo quasi finito con le gramps per mo' eh Anche se io credo che continuerò ancora un po' per Prendere exp da kill a caso Ma quello anche io Eh no ma io sono a 160 su 400 pif Io sono a 190 su 400 191 Eh di Buzin Eh di Buzin Eh di Buzin 176 Oddio ma fa morì Sto facendo un po' di buff Ok è arrivato il nostro Killer Dateci una mano però Ah Eh io sto facendo quello che posso Adesso ogni tanto se ne molla uno E mi arriva a dare due Due mazzate in faccia Due incornate Non ho capito perché questo fa stormgast Così ci sposta i mostri Un coglione Quest'altro stormgast su mostri debole a fuoco Deve essere un cretino Vita lei è un cretino Beh e cazzo pif Non puoi dirmi che uno che usa Una skill di ghiaccio su mostri debole a fuoco Sia una persona intelligente Qua sta a morire povero bimbo No prendi il doppio Dove sono i nostri Guarda il danno quanto è bello Spira tanto in cularello No si è fatto la stone skin Oddio potrei farmi fare l'armatura Dal pet c'è solo un problema L'armatura quando si esaurisce Mi toglie il 30% degli HP Ma cos'è questo? A freoni came out of the ground To help me defeat it E' nel coso di Nell'evento della Così c'è L'evento dell'estate Ah La bisogna di AB Anche l'AB ha bisogno di aiuto Ecco qua Tiè Fatto Minchia quanta merda Qui ci vuole Un magma eruption Qui ci vuole Anche un cut cannon Non vedo l'ora di avere arm cannon Così Aiuto Mi sono incastrato In compenso Anche livellato Perpo Ci è salito proprio Lolli e Benji E' il Sanremo ignorante Tutto questo è game chiusciano Il canale con il Sanremo ignorante E questo ha fatto l'ex tornado Mamma mia Flipp Flipp Qualcuno si è telepippato Mi faccio fare piroclastic Telepippato dove? Ho visto Effetto di teletrasporto Ah si Questo mostro si è teletrasportato Nel regno dei morti Guarda Ma Perché il nostro party È tutto così a cazzo? Perché adesso Tra l'altro Galactica si sta teletrasportando In giro Aspetta che Ci stiamo riunendo però Sembra la cosa più furba A fare Ma questo Yoink Yoink Sono arrivato giusto in tempo Per assistere A morte di tutti i monstri E prendermi il punteggio Cazzo guarda questi Damonti ce n'è Flup Aspetta che ne metto uno Anche io Vai Doppio Ma questo sta crepando Diamogli una mano Chi sta crepando? Uno di qua Ah Io Non crepare To Ci pensa Babbo a salvare Ma non voglio aprire la cosa Porca puttana Ogni volta apro le Col tasto Perché mi muovo col tasto a destra Per cambiare la visuale Niente Oddio mi sono bloccato Ok Non morì Aspetta che chiamo l'Homunculus Di nuovo Non sei mai Non hai detto Dava fastidio Eh ma ero rimesso passivo Ah ok Abbiamo dietro una mobatona E nessuno che la aiuta No perché ce n'è una davanti Di mobatona Due mobatona enormi davanti Camignotta Aiuto però la mobatona Eh l'ho L'ho distratta io E me sta a rocca Ma battona Sono due mostri Davanti ce n'erano molti di più 224 Antler Scaraba Ma chi è che li uccide Questi mostri Paravapa Io me vuoi riparare Ma che bello Poterlo fa E non è ancora maxata Fa skill Non è maxata Con quattro cose Mi fullo Tunk Tunk Cazzo guarda il mobatone Guarda il lagatone Perché più mobi più laghi Ecco poi il coglione Che ti mette in mezzo La skill Per spostare i mostri No così Tutte le skill degli altri Vanno a merda Cazzo guarda che roba Comunque se il no effect Non ti sta funzionando bene Usa N Fa uguaglio No 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 Sta funzionando abbastanza Ok Dove stiamo andando Questi mostri Ci stanno menando Davanti Stanno mobbando Corriamo Prima che si Finisca Non mi pare Qua non c'è nessuno Guarda qua Eh Vabbè io liccio Che cazzo Sono certa Non capisco più Che io devo spostarmi appena Per fare kart canon Devo tornare leggermente indietro Mi rifaccio fare Pyroclastic Questi danni Sono fantastic Pa 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 Ma questo Ci lo portiamo dietro No Crepa Ok Il lure Era qui A chi reage Bene C'è fatto Stone shell Ma il mio pet Non lo sta mica attaccando In compenso Il pet Sta prendendo danni Il mio omu No Quindi io Sono tranquillo La roba va sull'omun Bene Devo questa affare 185 ferus dietro Quanto hanno mollato Lo scarabà Sul mio omu E voi là Bello come un quadro Ah Gli zombie Che questo Non è che sta mobbando Lui va in giro E uccide E il mobber Dietro che si gratta La prostata Vabbè Sai che c'è Io Questo è capace Che come finisce Di fare i cosi Ci molla Pezzo pezzo di merda Poi guarda Cazzo Se divino una a destra Una a sinistra E tu dove vai Io mollo un magma E poi me ne vado Qualcosa prima o poi Ucciderà 318 318 Va bene 310 di questi Ahia Quello mi aveva toccato L'angelo mi aveva toccato 288 di questi Ho quasi marciato l'Inter Bene Che cazzo grid Devi fare cart cannon C'è qualcuno che sta a morire Del nostro gruppo Eh perché dietro Gli mollano sempre i mostri E nessuno ne fa Adesso Non vedo più una cipa Perché vedo tutto viola Per effetto del veleno Ma il veleno non mi dura Eh Io ho 29 vit Perché Swiffer lo cattura E io ne ho 90 Dovrò anche partare la 100 Eh non lo so Io mi sembra Devo portare tipo 80 La vit Ma non mi ricordo E' molto dopo Come Come priorità Molto molto bassa Io adesso sto portando Tutte e tre le statistiche principali A 90 Così prendo il bonus Del coso Come si dice Del backpack Sai com'è Invece sto seguendo la guida E dice Porta prima l'inta 120 Va bene L'inta 120 No questa non ti da nessun tipo Di stats progression No quella del genetic E' fatta abbastanza bene Ma questa è fatta con il culo Ed usare quelle che non sono di no Varo non mi fido Più di tanto No perché poi magari ti dicono Ah vai in questo posto Nel tuo server non c'è Oppure c'è ma c'è un posto anche migliore Quindi perdi tempo Oppure c'è un equipaggiamento custom Che è molto meglio E tu non lo sai E tu per di tempo vai a cercare una card Che poi dici Ma quella card è una merda Ma mia il doppio eruption Che abbiamo mollato Lì in contemporanea Li ha chiariti Ma ci sono due mostri dietro To crepa E' arrivata la mobata Una palla di cannone Gliel'ho tirata Se l'è succhiata Guarda che è carino questo Crepa La piantina della minga Hop 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 Eh devo potenziare un po' il danno di kart cannon Ma mi servono le carte nella Nell'arma E soprattutto mi serve un'arma Che non si ha solo più 6 Ti servono le kart? Eh certo Mi servono le kartine Piff Che ci facciamo un cannone Le kart per il kart No Piff Le kartine Per un cannone Ta 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 Poi mi raccomando Spamma il canale su Sul coso di nuovo Attiriamo gente a caso Darp Ma il mio munculo Mi sembra che abbia livellato Oddio qua c'è un batone E' proprio delicatissimo Cos'è che sta mobbando di qua? No 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 Oh e beh perché non spara? Perché stavo sbagliando la skill Parava 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 Guarda qua piovono su poster verdi Devono essere andati a male Brutte robe E vai, un altro livello Ho fatto il 121 Cioè, mamma mia Ex con la pala Io ho fatto il 130 Aiuto, qualcosa mi stunno Se questo continua a fare ex boomerang Non riuscirò mai a puntarlo con il... Oh, ecco Dove è il resto del party? Boh Ok, stavano troppo indietro Deve andare più avanti Bro, non lo fare sto lungando Che dà fastidio Tranquillo, il ghiaccio Lo rompo io con il magma Cazzi e mazzi No, dà fastidio Perché sposta i mostri, capito? Oh, qualcuno è al 90% overweight Derp Oddio, guarda il mio battone di questo Vai, spara 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 Se ci aspettano il tizio stava morendo Bisognerà mobbargli Prima o poi Beh, io gli do metto il colo Se non ce li butta dentro To Lo poveraccio stava crepando Povero giugio Oddio Lassa stare il mago Il mago c'è morto pure Tempo di castarlo Il kart cannon Signori Ah, questo non può più tornare dentro Perché ha fatto il 145 Dork È arrivata la mobba Parabapaparabara Però mi stanno arroccando Maguero Stava arrivando il doram con un'altra mobbata Qua c'è morto qualcuno Sì, tra un po' divento io il cadavere Mettiamo un'altra option qua, va Bonk Dov'è la bottiglia? Bottiglia? Ah, eccola Era proprio lì Aiuto, non capisco più niente Mi mancano 20 scarabba E io ho finito Non lo so Per le quest Faccio piroclastic Poi mi faccio questo Ma dov'è che stiamo andando noi? Boh Per qua c'è un altro party E noi sempre a seguire gli altri party Ci siamo infilati dentro il party nemico E abbiamo rubato tutti i mostri Andiamo ad un'altra parte però Qua c'è il doram che sta mobbando Diamogli una mano Qua dove? Qua è molto generico Ok C'è il doram che sta crepando Non che sta mobbando Bonk A me mancano 30 scarabba Andiamo ai businki I businki li ho finiti I businki Cazzo sono senza SP Pensavo cazzo sono senza mani Time for parting Ed è fuggito Il doram è fuggito Oh, fuck E mo mobbiamo costa rava e costa fava Ah Cosa mi rompe le verchie Dove sei? Tonk Ho finito il mana Non posso neanche più usare il coso Sì adesso a me è quello a fare No, aspetta il businko è Sono seguito da robe Cioè non posso usare le skill E un cazzo Devo recuperare Aspettate Oddio mi ha fatto una cosa Che mi ha rotto Il culo? E vedo il segno del mal di testa Ah, i bleeding Ma dove cazzo è il nostro party? È il nostro party tutto qua? Sì E... Chi mobba? Beh Aspetta io Mi curo un attimo Se no mi squagliano Aspetta poi Chi mobba E il mobber è dietro Sì ma dobbiamo Allontarci da sto cazzo di party Che già Stiamo mobbando poco In più ci ruba Tutte le robe Via Grazie Allora dunque State andando indietro? Sì perché là c'è il Aspetta che No Invece anziché indietro Stanno in questa direzione Che è sempre dentro l'altro party Porca troiaccia Cioè ma cazzo Ce l'avamo notati Stiamo tornando verso l'altro party Avete rotto un po' i coglioni Cosa che non si crede Qua c'è uno scaraba Tancato da uno di nostri Aspetta che lo ammazzo Signore io non voglio dire Ma ho un mobbattino dietro Sennò me lo ninja Arrivo Dove sei? Sono a sud A sud? Quindi questo sei tu Sì Cazzo Un mobbattino più sparsa del mondo È passato un tizio e mezzo Ho provato a recuperarmi Quanti potevo No nel senso Quando gli ho tirato il kart cannon Erano tutti sparsi Un altro scaraba Alla fine ho diventato il party Che facciamo i mostri Una volta Una volta Una volta E mi è passato in mezzo Alla mobbata Il figlio di troia Più più addeviato Per infilarcisi dentro È diventato il party Che fai i mostri Una volta Allora sai che c'è? Riattivo il Reload Non Reload Refresh Così adesso Il mio omunculo è diventato cattivo Mi mancano pochi mostri Anche a me Aspetta eh Dov'era F Ecco qua Guarda che bello Questo scaraba Guarda come lo arrocco Guarda la bottiglia Che calci in culo Che gli da Allora io ho 382 scaraba Attento a roba di calci in culo Che piglia Vieni andiamo giù Andiamo giù Allora guidi tu Mo batina Ina Ina Boh Boh Portala indietro Che sta andando in mezzo al party Cazzo è andata in mezzo a me Magma raption Babam Cosa? È che Non riusciamo a shottarli Quindi se li molli in mezzo al party Succedono i casini Non li ho mollati in mezzo al party Mi sa che è crepato il Chi? Il mio omunculo Vabbè Poco male La C'è roba che crepa Vabbè Mancano 4 scaraba Non esiste che me ne vado Vabbè Lasciamoli andare Noi ci facciamo la nostra roba Guarda qua c'è uno scaraba Vieni vieni Noi ci facciamo lì Cazzi nostri Pa 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 Ok 3 scaraba E ho finito Oddio Però qua urge sedersi Per curarsi un attimo La cura Cazzo Anche io sto crepando Cioè mi servono gli sp Per potermi fare il repair Aspetta Scusa Ma questo non mi può fare Menomale che ha detto Questo mi cura E ya Ok Aspetta che ho trovato una rod Che è una rod da Da coso Una whip of balance Aspetta E l'occupate Vabbè Menomale ci sta pensando il coso Io ho trovato una whip of balance Si Oh Cazza tua A cagare Whip of balance Che è praticamente un mazzapicchio Perché è un coso È l'arma di tombi Oddio guarda la bottiglia Che intanto gli fa Il culo come un canestro Quello che nel gioco di tombi Chiamano sfollagente Mamma mia Quando gli fa i piroclastichi L'anno passa da 800 a 1500 E' un po' come a me Quando uso Maximize over trust Che spendi soldi Diventi cazzottissimo Però spendi soldi E' mana No no questo Semplicemente però ti forza Il danno al tipo fuoco Che qua va benissimo Capito Quindi aggiunge danno al danno Uh 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 Scaraba scaraba L'ho visto L'ho visto Eh Ve levi Tunk 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 Ok ancora due A me ne mancano quattro Vabbè ce li facciamo Eccolo Eccolo qua E' spavolato giusto giusto Buono lo stun Buono Tunk Ti è piaciuto Oh guarda cosa è tornato a bomba Capito che Guarda qua c'è un altro scaraba Che sta arrivando Troc è stato intercettato al mio Uh ma ne è arrivato anche un altro Ma che bello E' anche mezzo morto Quanti te ne mancano Io qui ho finito 389 Me ne mancano di più Me ne mancano 11 E vabbè E vabbè Non è che ho problemi Vediamo se ho qualche oggettino Che mi può dare mana No Ah ho qua Royal Jelly Usiamone una va Vabbè non era ancora morto quello scaraba Stavo sparando a cazzo Allora aspetta che devo Tanto farmi questo Puoi farmi questo Cioè noi volendo possiamo soloarla qua Sì Che poi quando è finito Gli SP basterebbe uscire Ricurarsi e rientrare Esatto Lascia fare Te l'avevo detto che questa era fattibile Sì ma Col tempo no Però è fattibile Guarda che mi si è dato due secondi A prendere un po' di SP Vai tranquillo Io intanto vado un po' in giro Tanto ci penso alla bottiglia Sì sì No quello è un po' zinco Ah ma stanno rientrando La spicciolata Questa è una scaraba Mi che bello Lo scaraba Vieni vieni Po 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 La bottiglia Ti rompe Il culo Vediamo un po' se qua c'è Oddio c'è il tizio Che sta morendo Vediamo di una mano Sì Arrivo Arrivo un cazzo Non ho mano Niente paura È morto Ma non ti hai preso lo scaraba Che è morto Va bene Dove il mio bless Pa pa Para Non si capisco Ho più una fava Allora Oh Do una mano a l'omunculo Tocco Sì perché l'omunculo Fa la tank E quindi riesce a Per un po' di tempo A tenersi tutti i mostri Però no che qua faccio un Un attacco Poi devo sedermi a recuperare mana Non va benissimo Abbiamo raggiunto quota 90 No Perché non stiamo uccidendo scaraba Eccone uno Mi è spawnato proprio addosso Vabbè lo picchio di auto attack Che cazzo c'e devo dire Stiamo uccidendo un sacco di Di bosinki Ma non stiamo uccidendo la roba che serve Di bosinki Uno scaraba qua giù Lo scaraba qua giù Dalle porte del buio Adesso gli famo Un gran culo Qua ce n'è di più Perché porca merda Aspetta che te li Te li blocco con questi Oddio c'è la bottiglia Che siccome ho poca vita Va a salvarmi in automatico Dai se 397 Ma mancano 3 95% Forse riesco a livellare così mi fullo Ah che gioia Un altro scaraba Sì Che gusto Aspetta mo posso aiutare Bonk Vai con lo stun Vai con i danni Me ne manca uno di scaraba Piff Questo No non era uno scaraba Non era uno scaraba La bottiglia quella Eccolo 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 Arrivo Bonk Frupp Possiamo andare Ok Pronti Done virgoletai for the party Aspetta che fuggo Dove Eccolo qua Io sono qui Live party Sì No Frupp Live party Frupp Mamma mia Non ce ne poteva più di questa roba Sapevatelo Oh che abbiamo livellato come una merda eh Anzi come due merda Sì In pieno Però il delirio era troppo Tanto possiamo provare a fare la cosa Ammo mi sa Allora aspetta No devo parlare col cartello Ho sbagliato Cartello Cioè possiamo Oltre il 125 possiamo provare a fare l'airship Eh perché no Allora antler scaraba Intanto però mi devo sistemare I jobby E i busilli Che assai li posso riprendere subito Ok Ok ora ho 90 dex 90 vite 90 str 4 ore di cooldown ci sono Io invece ho 120 int Aspetta che devo guardare la guida Per sapere cosa devo mettere dopo Adesso guardo anche io la guida Come di fare cagate Vabbè che posso restaltare Sì qua puoi reskillare Restaltare Continuare Sì non mi sembra il caso di sprecare soldi Esatto Allora Era di qua Ecco per cart cannon Dunque Prima 60 str Poi 100 dex Poi 120 int Poi 110 dex Ok devo alzare la int sicuramente E poi un po' di vit Ah anche io devo raggiungere 94 di vit Ok Beh vabbè Lui dice 110 dex E io metto 110 dex E a me serve Sbloccare Arm cannon Quindi mi serve a cold slower Per cold slower Arm bull counter Thorn trap Bloodsucker Devo mettere 5 su demonic fire Però c'è anche l'espansione Ecco fire expansion numero 5 Come lo Chanel Ecco qua 5 di questi Momento che voglio una roba Che c'è? Cosa? Piff reggi tu Che è successo? Parapapapara Parapapapapara Cose a casa Tanto non ci sta guardando nessuno Quindi chi se ne in zuppa Quindi devo mettere Abbiamo detto Loud exclamation Qua Adesso probabilmente andremo a fare Liarship Quindi questo l'ho messo al massimo Ok perfetto Poi Dov'era La cold booster mi pare No Non era questo Popapapara Intanto cominciano a spammare canzoni al nastro Non si capisce più una pera Non si capisce più una pera So Grazie a tutti ok va bene va bene va bene va bene ora mi ricordassi che skill devo alzare sarebbe una cosa fantastica no 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 oh ok ci sono speriamo non gli vengano altre idee geniali per oggi ci sei pif? si un attimo sto guardando una cosa quindi non era qui vediamo se era qua ok emergency cooldown davvero fammi vedere se intanto posso ah per questo dovevo prendere due self destruction vabbè ci hanno fatti scopiare dove c'erano le gathering di qua florescenti li con il torno aiuto no l'arm cannon gli chiedeva qualcosa come oggetto cacchio potevano fare i tworned scaraba no forse sono gli antler scaraba qua dentro e prendere una doppia quest vado un attimo a prontare a comprare un po di palle di cannone va perchè le usi anche tu? eh certo l'arm cannon che ne so è un cannone secondo te quella spara? buoni sentimenti? bestemmie? no canapa ok devo prendere gli antler scaraba da questo cartello così la prossima volta che faccio gramps scaraba all antler scaraba e poi ma cosa c'era? no tutta cagata mmm elicastesh brady un gol noo che è un artura di coglioni derp questo che cos'è? no cos'è una roba da instance tor volcano magari c'è qualcosa qui casa salamandra bla 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 no che mi fanno un culo così oh non lo so non sono andato al tor volcano dovrò fare un test per vedere se mi se mi fanno effettivamente il bucio come un canestro se mi rifanno il pertuso in effetti potrei provare perchè tanto le prendo male ma le non mi fanno neanche biolab f2 ho il terrore che biolab mi facciano il sedere così ouch il green apple ring ormai non ti da più bonus quello infatti prendo il cooling device che è slottato e mi da più uno dex che è più utile il rin cooling device gru'ta roba devo provare questa storia prende il dildo al motorico adesso dobbiamo aspettare 4 ore per ripigliare le quest Io adesso mi svuoto Sarà per domani A questo punto Nella live Oddio Ho droppato una Boon Ginz In Scard Ich Raffine MP più 1% Nell'headgear Io non ho droppato Un cazzo di niente Dragon Canini Brown Root Foglie La Whip of Balance Facciamo che La butto Non mi serve Oddio Ho usato tipo 300 palle di cannone Elder Branch Vediamo dove Avevo vorpato L'ultima volta Fammi vedere Fresh Fish Ah Turtle Dungeon Bene Questo non è male Facciamo un Allegro test Tu Vai Big Shelley Devo ottenere Questo no Ah cazzo Non ho equipaggiato Le munizioni Shoup Ecco qua Ho recuperato Un po' di dinari Queste le devo Uppare tutte Qui c'era niente No Devo andare al Tor Volcano Quindi Rimettiamo Domunque Slash Oai Era già aggressiva Forse Vediamo Vedere Basic I Quindi Slash Oai Lo teniamo così Gusto Mizzato Tor Volcano Perchè non Perchè non mi fa equipaggiare Questa cosa Guarda livello No Mi chiede Equipaggia le munizioni Ma non mi fa equipaggiare Le devi trascinare Nel tuo inventario Cioè Dal tuo inventario Le devi trascinare Nella cosa Dell'equip Come le frecce Le frecce Non ci dava più Cliccava Me le spostava Vabbè Adesso vediamo Cazzo Non è cosa No Non è cosa Piff Non è cosa Ho fatto il culo Come un canestro Beh Tu perchè non l'attacchi Aia Me l'ho dimenticato Il magic gear Ma non guarda che ce l'avevo Nel carruzzo Ok Sta cosa non fa Anche le impa Non fischioni di vita No 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 Ciao Io fugo Non è fattibile Il tuo volcano Uh Mica male sto cannone Eh La botta di quelle forti Cazzo Faccio 16k E passa Piglia un po' Di sto cannone Che ti do la soluzione Mamma mia Allora Quella cosa non andava bene Quell'altro avevo preso Le antile scaraba Diciamo Proviamo a fare la Vuoi fare l'airship Sì Proviamola Perché no Allora Fai il party Ok signori Preparatevi Alla Ti ricordi anche come Si faceva Aspetta Aspetta che prendo La guida Non si sa mai Allora Airship Dove è Airship assolta Eccolo qua 125 e più Ok Vai pif Quindi dislessia Portami via Ok Cioè è fatta Quindi Invita Ti è arrivato l'invito? Sì Ok Si andava Si andava Dal warper Mi pare Vediamo un po' Dove erano Non mi ricordo In quale Instance Si dovrebbe essere Nelle instance Oppure era su Hero Trail Infatti mi sa Che è su Hero Trail Perché qua non c'è Basta guardare Lo facevamo Si deve essere Mola Hero Trail Airship assolta Si Nero Trail Ok andiamo Ci siamo Dobbiamo parlare con questo E poi Spero che mi bastino Le storie Quindi con Explorer Leon Si E poi con Dimensual Device Penso di si Power up the device Ci siamo Bene Comunque Adesso bisogna Parlare con Fenrir Poi bisogna andare Qua Parlare con questi Un capitano Faccia di Difesso Ha perso Il minion Blablabla Dobbiamo andare Al lower deck Ok Adesso ancora Parla con questi tizi Ok bene La bottiglia Sta già facendo Il suo lavoro Ma adesso Io farò il mio Non ho equip Come? Salve buongiorno Bonk Ho detto Salve buongiorno Bonk No Eh questi Tengono Ah aspetta Posso fare così Io Aspetta che io Invece voglio vedere Se per caso Pyroclastic Ok Loud exclamation Lo posso fare Gli altri skill Non me la fa fare Quindi poi Le elimino Dalla barra Mi sa che forse Pyroclastic Non è stato Geniale Perché qua Possono avere Elementi diversi Oh qua c'è un Rotarzyro Vai di antiaerea Babam Ma io preferisco Andare di bottiglia Vabbè Gli mancava una nenneca Poteva anche finirlo Prima di venire a salvarmi Ma che cazzo Dove lui fa Uh qua c'è un fischione Ahia Cos'è che mi è colpito C'è la bottiglia Si sta tankando L'impossibile Io non riesco a sparare Di d'acqua Vaffanculo Ok Mamma mia Signora bottiglia Ammazzi famiglia No È buona notte al secchio Poi una volta che puliamo Cos'è che bisognava fare Bisognava scendermi E poi un finish A me c'è Next floor Però non mi dice se è su o giù Ma abbiamo ancora finito No era giù La bottiglia ha trovato un altro mostro Io intanto ho trovato tre scarpe Bene Io non so cosa ho trovato Qua non c'è nient'altro Io non ho trovato un cazzo di nulla Mi sembra giusto Piff Vabbè se hai tre scarpe Un paio le posso prendere io Grazie Divertente questa Che come Che simpatico Morisa Dunque bisogna scendere Devono essere qua le scale Oppure salire No No salire e torno indietro Ok questi sono Acidus Ma mi ricordo che il loro elemento Non era fuoco Questo gagnaccio No gagnaccio Vabbè ci pensa la bottiglia Toh Tuff Mi facevo fare un bel lava slide Così Ah però adesso finchè non scade il parioclastic Non posso cambiare arma Eh E questo è un casino Cazzo ho sbagliato spell Pure classic Ancora no Beh gli fa comunque Settemila e otto Questa cosa Non è malaccio Ah posso aprire il master package Intanto Apriamolo Ci sono altre pozze Ah pozioni blu E due nuove sbavbo il gamma Che io non ho mai usato In tutta la mia vita 100% exp Aspettate intanto mi ballo queste pozioni Così liberiamo uno slot Ecco ci metto queste No ci devo mettere le veteran Adesso che è finito piroclastic Posso Fermare tutto Equipaggiare questo Come sento rumore di mostro ma non vedo il mostro Facciamo cart boost Facciamo loud exclamation Adesso posso curarmi Farò meno danno però La capacità di curarsi Ah ecco perchè La gamma Ci sono le vuole Ah Boh Ma questi erano Deboli a Auli Mi sembra che faccio lo stesso danno No Mi è sceso il danno di un po' Vabbè chi c'è Chi c'è ne inzuda Mi metto dietro La bottiglia Cosa E mandalo via Che cazzo La guardia è un picco tuo Devo fare La tutela di coglioni Ma non sanno cosa fare Come siamo messi a mostri C'è solo quello Ce n'è uno qua Purtroppo io ho finito il mana Tunk Tunk No ce ne deve essere qualcun altro Ammagato Eccolo qui Vai bottiglia Bottiglia Pronti Oh Ce n'è ancora E siamo sicuri che Io qua sento il rumore di mostro Guarda Eccolo Dove Eh qua a sinistra Ce ne sono due addirittura Claudio Busio Cazzo Ok devo togliere Magma Eruption Perché sto continuando A sbagliare il tasto Ce ne è anche uno qua Si nascondevano i pezzi di cacca Si nascondevano i pezzi di cacca No non sparano i mostri Bisogna scendere No dobbiamo risalire perché nel sbagli spadeva tutto Devo mostrare Ah si è vero bisogna salire Vabbè è uguale Parla Ok adesso ti si fuggono E per risalire Per di qua Non resurrect Per di qua dove Ecco qua Qua su Infatti sono respawnati i mostri Perfetto Vai Festa Questi droppano i pekifruit Oh no Qual è il problema Perché non li danneggio Io mi faccio pyroclastic Cazzo questi sono tostarelli Eh questi gonfiano Ok parlando con questo To Adesso con pyroclastic Però gli faccio 4k di danno Sono più Più arrocchevoli i mostri Io anche io Se fossero tutti i belli mobati Li potrei uccidere con il Come si dice Ma ho 90 La OE Vai Vedai che sto bevendo Come un Se sono tutti insieme Io li posso uccidere in gruppo Però uno a uno non mi conviene Beh io ho anche uno a uno Uso la skill di gruppo Perché non ne ho altre Quindi E quindi quella è Ho pochi O a 3 a 3 Così bravi Mi sono fatto un set Completo di airship Quando si dice il culo sfondo Io ancora non ho trovato neanche un pezzo Che merda Perché non lo stai uccidendo Tu uccidi un terzo Sì che sto uccidendo Che cazzo Gli uccido però non mi droppano niente Mi droppano prickly fruit e merda Derp E che io non faccio pause Capito La bottiglia fa Il fischio E beh E quelli E quelli Sono senza mano Devo recuperarlo Se no Mi sa che stai crepando Però Sto crepando anche io A dire la verità Ti do una mano Mamma mia Pifo semi morto Semi morto un par di balle Ho ancora 6.000 HP Non resurrect homunculus Vabbè Allora facciamo questo Poi facciamo questo Devo Devo risistemare le cose Quindi qua voglio le pozioni Questo Qua Io mi sto curando a forza di heal Proprio come i veri barboni Questa che cazzo fa? L'homunculus ha fame Tieni mangia L'homunculus è quasi al mio stesso livello Prima era più alto Derp Uh c'è un beholder piccolino Bene Adesso lo crepiamo Adesso che è ancora piccolo Cazzo Solo 36 Palle di cannone Poi ho finito Eh male Oh se vuoi di quelle base Ne ho un po' Ne ho preso 100 Figurati 100 Barbone Cazzo Io vado a botte da mille Sti cazzi Io devo provarlo Dai ho detto Prendine di più Che servono sempre No Non c'ho soldi Con cosa le prendo Con la merda E prova Magari a qualcuno piace Parli per esperienza? No L'unico che mangia merda qua sei tu Derp No è proprio perso Mi sta che mi stai confondendo con un'altra persona Eh qualche altro culattone sarà Eh amici tuoi Ti culattone Amici tuoi forse Quelli che ti condividono le robe su Facebook Brutte robe Comunque questi sono resistenti a fuoco senza dubbio Oh finalmente un pezzo dell'armatura Deo grazie Perché sto prendendo danni a cazzo Ah cazzo sono in over hit No 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 Brutte robe piff Il fischione del calore Sì E ora come cazzo mi passa? Ah boh Mi seggo Non mi Non mi è mai capitato Anche perché non ho mai giocato quel Eh dovrei usare Emergency cool Ma non ce l'ho qui di niente Tipo ti tiri un secchio d'acqua gelata addosso E dici Oh mio dio che caldo Allora dunque fammi vedere che cosa ho Ho beccato io Oddio ma che cazzo Quattro paia di scarpe Sono diventato coso Come si dice? Quel negozio famoso di calzature E mo? Ma prendi danno così a fischione? Sì finchè non mi passa sto cazzo di cosa Uh armor of airship Mi piace E quanto dura? Eh boh Intanto questa me la metto Che è meglio di quella che ho io Invece se un attimino arreccare gli SP Ok adesso in teoria potremmo skipare il boss Perché l'armatura dell'airship l'abbiamo già fatta Io non ce l'ho l'armatura dell'airship Oh la cosa più rara è stata il mantello Perché il mantello ne ho solo Non so potrei anche utilizzarla Al posto delle Delle scarpe dell'Eder Forse sono meglio queste Agi e ASPD Eh forse no Quindi devo usare Emergency cool Finchè non lo faccio Non posso fare un cazzo Posso solo morire Ah bene Quindi adesso muori così Immagino Brutte robe Vabbè posso fare così però guarda Togliere Hai provato a togliere il mecha? Eh non so se può farmi vedere Prima di morire Magari Vedi così non muori Sì ma non lo posso più rimettere mo Eh vabbè meglio di morì Che attacchi hai per Magma eruption Siamo messi male Eh tu togli il mecha Io lo tolgo Eh ma l'alternativa era Tu morissi Quindi non è che Allora c'è questo che è Dragon Dark 4 E questo è Dark 2 Quindi mi sa che mi conviene Usare un'arma a oli Ci siamo Piff? Andiamo Eh se è Dragon Dark Aps No ti porto le Eoli Cannonball pure io Eh io non ce l'ho Eoli Cannonball Quindi Claudio Bisio E adesso tanto non le posso usare Posso solo spammare sta cosa Non le puoi usare perché hai Non hai il mecha Perché non ho il mecha Eh È l'unica cosa Facciamo che mi metto Tutte le palle di cannone di qua Ok vai Piff Doveresti parlare con la tizia Se non ricordo male Sto già parlando con la tizia Infatti vedi che c'è Il mio omunculo che è impazzito Si sta cercando di uccidere Dei monstri che in realtà Non ci sono Non sono monstri Ecco Però adesso si Vai Gonfialo tanto Gli ho fatto 13k di danni Magma eruption Io lo casto e poi mi levo Oh tanto Vale la bottiglia sta tankando niente male Aggiungiamo un altro po' va Bonk Ok sai che c'è Io mi faccio questo Poi faccio castare questo alla bottiglia Adesso bisognerebbe parlare con Ferlock E lui diventa un MVP Si impazzisce Allora dunque dov'è che ho messo Volcani Gli faccio Volcani Cash Adesso in teoria ha molta meno AVO Si ma quest'affare ha 3 milioni di HP Piff Non penso che riusciremo mai A sdarenarlo così Che perché L'Homun sta avendo qualche difficoltà Si qua ci vuole Farms Cannon Però devo farmi il Mado 7 Se devo Spare con quello Per fare i 100k di danno a botta Eh ma questo non ce la fa Capito Mi muore l'Homunculo Adesso siamo tranquilli Perché lui è senza hit Gli faccio un altro po' di Volcani Cash Poi gli faccio Un bel Lava Slide Perché Ecco così Aggiungiamo danno al danno Eh certo Tanto Man Eruption Come noi ti fa Danno fisso 1.800 Anche a lui Beh se danno fisso Danno fisso a tutti Credo Solo che Lava Slide Non dura così tanto Sempre più del mio Magma Eruption Eh ma fa meno danni E poi non ha il danno fisso Però è Buono per È buono Adesso muore il pet Devo risuscitare Occhio che adesso Targeterà te Eh Hop Eh adesso Non so come dirgli Attaccare questa cosa Perché ci sei tu Ok Con contro Aspetta che mi levo Così si ripiglia il pet E mi lascia il coglione In pace va Allora Facciamo un altro po' di Volcani Cash No mi sa che ce l'ha ancora con me E tu allontanati un po' Guarda Io mi allontano e mi seguo Così il recco Io allontano e mi seguo Vediamo cosa succede Se mi attacca No sta attaccando il pet No ce l'avevo il pet Benissimo Mamma mia Anzi sai che ti dico Faccio fare le Ah no non posso Perché sono seduto Devo essere Forse un po' più vicino No Forse devo essere in piedi Vabbè Gli mettiamo un bel Volcani Cash Poi faccio curare il pet Policautic Benedition Non grid Devi fare Card Cannon Poi facciamo questo Poi facciamo questo Dici che cambiare il danno a fuoco Aiuta? Beh sicuramente si Perché glielo fa guadagnare Adesso facciamo un po' di test Perché adesso il danno è oli Quindi In teoria E' meglio Occhio che sta per mollare il pet Vai pet attacca Attacca ho detto Attacca banda Flip Pairoclastic No Anzi gliela diminuito il danno Se voglio fare un bel Volcani Cash Ecco qua Un bel Lava Slide To Ok non bisogna farlo Pairoclastic Sì devo prendere l'Emergency Cool Se no E' un danno Sei giorni e mezzo per finire questa instance Mamma mia Dovevamo fare un MVP Eh vabbè Chissà ne in zuppa Cioè Possiamo farlo Perché comunque L'Omunculus può resuscitare All'infinito Però che palle Volevo un po' di pezzi Del set dell'Aireship Invece niente Tu li hai droppati tutti Io niente Va un culo Solo il vestito Perché il gioco finalmente Mi ha voluto bene Porca puttana Perché c'hai il culo sfondo Ecco perché Dillo all'upgrade Al 90% Piff Culo sfondo Di merda Ma gli amica Scaduta Volcani Cash Facciamolo di nuovo Facciamogli anche un bel Lava Slide Non mi ricordo che effetto Ha sugli MVP Mi sembra che gli diminuisca L'Hit Rate E che è cosa buona e giusta Oddio Devo andarci piano con gli SP Che sto finendo la roba Lasciamo di nuovo l'Omun Vai Vai Omun Torna in pista E vado a sedermi un attimo Perché ho bisogno di SP Anche io Hop Lasciamo fare tutto a lui Mamma mia Vedi Come si gioca a Ragnarok In maniera decepta Con salute Grazie Se non mi si fosse rotto Il malo gear Prima del boss Sarebbe stato meglio Gremlins Gremlins Game of Mayership Ma che cazzo Che sta sparando L'impattata perché vuole uccidere i Gremlin Eh ma deve aver bevuto il poverino O la difesa fissa O la difesa fissa dagli elementi O forse non ha una debolezza elementale È quello È quello Vabbè è dark Quindi in effetti tutti gli elementi sono uguali Che in realtà questo droppa il fairlock set che non è neanche così buono Ma no che cazzo Vabbè fail L'hai castata di fianco La spell di lato Io l'ho castata d'osso ma ho visto il personaggio che si è girato e ha detto Ma sai che c'è la cazzo qui Ecco qua un bel volcanic hash Beccati un bel lava slide Dove aver recuperato il CP a sufficienza Ecco Sprechiamoli con grid Hop Cart boost Loud exclamation Vai Dropami il Captain Hat Che mi serve per la build Va Ma non lo droppa lui eh Sì Lui droppa il fairlock Captain Hat Che è diverso È del set È quello Eh ma senza il set non te ne fai niente Pure lo consiglia la guida Sicuro che sia questo Perchè lo ship Captain Hat è un'altra cosa eh Aspetta lo vediamo subito Mi sembrava uguale al suo con le cornetti Eh ma devi vedere il nome Perchè riciclano gli sprite per alcune cose Airship Captain Sat Adds ranger damage with boost arm cannon DPS Boh Non mi pare che sia il suo eh Eh vabbè E poi controlla E poi controlla Oh mandami la guida Perchè lo guardo da lì Beh perchè non Attacca Cosimo Non attacca più Ok Guarda che intanto mi cura un po' Scusa perchè non ti allontani Così fa il danno al pet Anziché a te Eh tanto poi già cambia Tanto adesso Il pet deve morire Torra con grid Che cazzo Voilà Ma lo stai prendendo a randellate così Sì Perchè non ho l'SP Vabbè che ti vieta di sederti No preferisco fargli un po' di danno Intanto pigliati questo Tu Ma gliel'ho fatto fare Volcani Cache Ok Allora intanto gli faccio fare un Volcani Cache E un bel Lava Slide Poi mi siedo Tanto gli faccio Un bel Magma Eruption Che non guasta mai E il tuo Munkus Usa il control e fallo attaccare Fallo a cortesia Eh Baga ogni tanto perchè Ha problemi col targeting Ho sempre detto Perchè come te Un pacco E' vero Però intanto ti sta mantenendo vivo Sì Così del fatto che il Moses Mi stava massacrando il culo Perchè il tuo pet mi guardava Tu te hai fatto di allontanarti Invece tu sei rimasto lì sotto Sì perchè se non lo attacco io Non lo attacco al pet Questo vuole andare Copero dice Ship Captain Atopif Boh Però se guardi Dice che lo droppa il capitano Di Biciriricrocro Ship Captain Atop No questo non è un ATCS Che poi nell'altra guida Quella di Iro Capero e poi dice Cash Hoppif Dove Nell'aggeggio Perchè stavo guardando Quello di Iro Anche per avere un confronto E anche lui consigliava Di usare questo Quindi Secondo me Devi comprare un altro paio Di Bicitti Dai che questo è morto Olè Ah che gioia Con questo No No devi solo uscire È fine Mamma mia Allora Ship Captain Atopif Infatti Ah perchè qua è il Captain Dress Ma questo è l'Air Ship Captain Atopif Ah perchè lui lo chiama in maniera diversa Ma non è questo Ah ok Infatti se lo cerchi di qua Dunque qua è Chiocciola VS 53 59 Ed è più di 20 milioni 22 milioni perchè è Cash Hopp E vabbè pace È troppo bello Io direi che per oggi Possiamo anche chiuderla qua Comunque Abbiamo fatto una instance L'abbiamo livellato come dei sporci Mamma mia Mi ha fatto il 135 adesso Mi ha fatto il 128 Perchè il boss comunque Un po' di expo è la data Un bel po' di expo Mi ha fatto livella E nulla Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito Ci si vede sempre qui su Gamecube Channel Stessa ora Stesso canale E sempre con PeachMajie27 Ciao a tutti belli Mamma mia Abbiamo perso un bel po' di fotogrammi